Il Consiglio regionale del Piemonte ha celebrato a Palazzo Lascaris i 150 anni della Croce Rossa italiana con una serie di iniziative. Le celebrazioni, insieme alle testimonianze dirette dei protagonisti della storia recente dell'organizzazione, sono state raccolte in un video della serie Piemonte Memoria, realizzato dall'Ufficio Stampa del Consiglio, ora online su crpiemonte.tv, nella sezione Memoria.